buongiorno sono silvia la spa manager dell'adler dolomiti e oggi ho il grande piacere di farvi vedere la nostra nuova spa prego seguitemi eccoci questa è la nostra nuova spa reception qui accanto subito il parrucchiere e lo shop anche qui dietro e qui abbiamo la bellissima zona attesa per i nostri clienti adesso scendiamo dalle nostre nuove cabine come vedete tutte le nostre cabine si affacciano a questi giardini interni che regalano tanto luce e luminosità qui siamo arrivati al nostro padiglione dello yoga dove tutti i giorni offriamo delle attività di yoga e anche di meditazione spero che vi siano piaciute le nostre novità e che ci vediamo presto qui ottisei ciao 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 ciao